Cammino sopra la strada Ianca, a dove c'è l'omeo, grandi amori, e lo mio grande amore è la terra, che mi dona frutti, che sa mi dona frutti per tanta amore, chi ci ha aiutato? Io ci dava amore e dissa frutti, i mille colori. Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Gli assegnarono un pezzo di terra dove con i suoi addepti lo percorrevano, dissertando e passeggiando. Anche nel libro di Tommaso Campanella, La città del sole, i ragazzi erano avviati al sapere, camminando lungo le mura delle città dove c'erano raffigurate le nozioni da apprendere. Oggi per chi cammina a piedi diventa difficile. Hanno costruito città e strade a dimensione di automobili. Da un certo punto in poi della storia l'uomo ha iniziato a credere di discendere dalle macchine. Parcheggio sotto casa, parcheggio al centro commerciale, creando barriere, dimenticando che camminare è un atto primordiale, naturale, spontaneo. Il vero viaggio si fa con la grazia dei piedi, gli altri non sono viaggi, sono solo spostamenti. La 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 Grazie a tutti.